Innanzitutto è un bel libro, è scritto bene, è scritto con una ricchezza di fonti, di documentazione, fa parlare i protagonisti del tempo, quindi è una lettura agile, è una lettura che si fa volentieri. Ci riconsegna quel periodo che va dagli anni 50 alla seconda metà degli anni 70, un tempo anche conflittuale, un tempo difficile, ma un tempo in cui la Chiesa ha investito molto sulle acli e il Movimento ha saputo dar tanto alla Chiesa e alla Comunità Nazionale. Credo che la lettura del libro ci aiuti anche a leggere e a collocare nel giusto modo avvenimenti, eventi e anche incidenti di percorso che ci sono stati, ma che se li leggiamo a distanza di tempo, recuperando, grazie proprio al libro, anche il clima di quegli anni, acquistano il loro giusto sapore e il loro giusto peso. Grazie a tutti.